Salve! Ancora il Gion non ha dovuto tornare a Milano perché aveva dei motivi cinematografici che fa un film per lì, allora viene sostituito da uno dei Forlì, scusami ma chi è del Ponte? Il se c'è Dante, Dante di nome e Bom di cognome, Dante Bom che per gli amici sarebbe abbondante pensi a sua mamma quando l'è nata che do occioni che gavi gli ufora, guarderlo, ecco, allora che è il mio amico Dante allora a leggere i giornali a volte o libri ti ti scegli sempre spesso e volentieri anche chi che l'è che l'ha scritto l'articolo allora che era una volta che era il Montanelli e lo lizeva quei di destra, quei di sinistra preferiva sempre andare a finire sul Giorgio Bocca o sul Biaggi che da noi che era il Nelo Morandi, che era il Beppi Filippi che era come dire Coppi e Bartali subito dopo dell'ora è venuto anche il Cornelio Gallas, che era in pensione, l'è sempre dire che il stampa, come si chiama, i passaporti tutti falsi per la Repubblica di Vignole, e dopo il Gac, quel monega di Beppi Paia che va in giro con la spazzatrice a darli fuori per il bar allora mi investi anche a me go in una pena, una pena quel che scrive sul giornale che sono innamorato lei è il Matteo Casol che scrive e scrive sempre su il Trentino, non conosco, ti conosci? Dante conosci il Matteo? Ecco, non conosco e mi piaceria anche conoscerlo perché mi piace quando scrive, vorrei domandare ai suoi colleghi di scrittura uno è il Paolo Tagliente, e il Paolo Tagliente mi dice, guarda, sta tranquillo, lei è un putel, un bravo putel, non ti vedi mai in giro però il gay è il gay, stessa roba, stessa roba mi ha detto il Gianluca Marcolini, e mi ha detto, guarda, insomma, lei è un buon putel però lei è timido, lei è timido, pensa al marito Gianluca Marcolini, che sulla sua carta di identità il gay, no? Il gay tira via la foto, al posto della foto, il gay sull'impronta del suo dei pollici allora, vabbè, speriamo di conoscerlo, di farlo via anche con noi, il Matteo Matteo, io e anche il Dante ti vogliamo molto di bene allora, il Matteo questa settimana qui probabilmente l'era in ferie perché non è che l'abbia fatto dei grandi articoli la faccio un appuntamento a Bologna, dove c'era una conferenza del medico psicoterapista non ti dice giusto? No, ho sbagliato, l'era un medico psicoterapeuta che fa una serata sul tema assieme a tavola come gestire le problematiche del cibo e il Dante mi ha detto, guarda che le problematiche del cibo di Dancoe non è tanto quello che hai quando sei in tavola che ti mangi ma devi avere i soldi per andare a comprarle perché con 500-600 euro al mese di pensione non ti arrivi neanche alla terza settimana e il cibo non ti ha neanche i soldi da comprarlo e spesso volentieri che deve andare alla Caritas a farci dare il pacchetto viveri ecco questo è un po' quello che mi dice il mio amico Dante un'altra cosa allora che è un po' più di gente pregnante come dice il Marco Perini che l'aveva fatta il vice sindaco Arco, quel da San Giorgio, il mio amico non è quello l'è la notizia della settimana che era sul Trentino allora basta credergli meglio la cucina etnica questo è quello che gli dice Supertrend allora io ho pensato che con il tempo del genere il Paolo Perini che è il comandante dei Schutzen di Arco non dormerà neanche alla notte secondo me perché lui non mangia neanche la pizza perché lei mangia dei terroni lui si governa solo con i cani con il gulas fatti con il gulas allora cosa vuole che dica io e il mio amico Dante abbiamo pensato che qualche differenza tra Polenta e Cunel e Involtini primavera che li troviamo ancora no? Polenta e Cunel e Involtini troviamo ancora una certa differenza e come stasera nemmo mangiare fuori occhi alla lega oppure nemmo fuori al Belvedere fai una bella mangiata di carne di salà e fai gioia e troviamo senz'altro una differenza di quello che può essere il riso bollito fai anche un'altra cosa evitiamo di quello che è successo a quello di Roverello che li ha a mangiare nella cucina etnica la carne e dentro nella carne il gatto trova dentro il microchips del cane allora abbiamo pensato noi e Dante che se nemmo mangiare qualcosa nemmo chi e dove troviamo il cameriere che ne capiamo anche perchè così che ordiniamo magari una bossa di Tiroldigo una bossa di Merzemim che secondo me e il mio amico Dante è sempre meglio di quel vino che fanno i cinesi con le foglie dei cappucci allora visto che il vino qua noi ne l'abbiamo messo è anche meglio perchè ne si rifudiamo perchè tutte le volte che vieni qui bevendo gos, bevendo gos e ne dà anche dei briagoni allora abbiamo pensato bene di far salutarvi tutti quanti come che fa quei via con gli occhi a mandorla vai, vai Dante allora che vi salutevi allora salio un'ala salio un'ala salio un'ala salio un'ala